Il 24, 25 e 26 maggio a Scalareta di Altavilla Silentina in provincia di Salerno si svolgerà una grande festa in onore di San Pio da Pietrelcina. Io ho il piacere di avere accanto a me Maria Fiorella Tomasino, figlia del presidente Renato dell'associazione San Padre Pio. Allora parliamo un attimo di questa festa. Perché? Perché è nata questa festa? Questa festa nasce dopo anni di devozione al santo di Pietrelcina, devozione dovuta ad una grazia ricevuta da mio padre, ad una guarigione definita dall'ematologo inspiegabilmente miracolosa e quindi da qui il desiderio di ringraziare questo santo in questo modo, quindi rendendo partecipi anche i concittadini di Altavilla in questo modo con questa festa. Una festa che, come dicevamo prima, si sviluppa in tre giornate. Raccontiamo un po' che cosa accade dal punto di vista religioso e anche dal punto di vista, insomma, delle cose che vengono organizzate dal punto di vista dello spettacolo, ecco. Sì, allora diciamo che noi abbiamo cercato di amalgamare sia la parte civile, quindi la parte ludica della festa, con la parte religiosa, quindi abbiamo chiesto a Padre Costantino di organizzare, che è il nostro parroco, di organizzare la parte religiosa, quindi tutta l'organizzazione di quella che è la processione, la sera precedente alla processione, quindi con la recita del Rosario il venerdì 24, a cui seguirà poi un'attività ludica, qual è uno spettacolo di musica, quindi di organetti, di bambini che suonano qui vicino nel comune di Albanella, a cui poi seguirà la sera del 25 la processione del santo per le vie della Contrada, a partire dalle ore 18 e 30 circa, che culminerà con la celebrazione della Santa Messa e poi con il ritorno dalla piazza al santo dedicato qui in cappella del santo con la fiaccolata serale. E a questa parte religiosa seguirà anche qui una serata di spettacolo musicale, dove ci saranno Gigione e Donatello che allieteranno la serata fino poi allo spettacolo pirotecnico. Invece la giornata seguente, la domenica, sarà una giornata dedicata prettamente ai bambini con attività ludiche ad essi dedicate, in cui ci sarà poi una sorta di premiazione dei bambini delle scuole che parteciperanno, che avranno realizzato frattanto dei lavori artistici e manufatturieri. Ecco, quest'ultima serata di cui hai parlato si intitola Giornata con Maria Chiara. Vogliamo parlare un po' di questa bimba? Sì, lei purtroppo è venuta a mancare lo scorso anno ed era la figlia di una nostra collaboratrice, nonché amica, Letizia, ed era una bambina tra l'altro molto entusiasta e molto coinvolta anche nell'organizzazione della festa e purtroppo l'anno scorso per un improvviso malore, per un'improvvisa broncopolmonite fulminante è venuta a mancare a pochi giorni appunto dalla celebrazione della festa e da qui quest'anno il desiderio da parte di tutti i componenti dell'associazione di dedicarle una giornata coinvolgendo appunto quelli che sono tutti i bambini che come lei popolano Altavilla. Allora ricordiamo che il 24, il 25 e il 26 maggio Scalareta, che è una frazione, una zona importante del comune di Altavilla-Silentina, sarà protagonista questa frazione di una serie di eventi importanti e tutto quanto dedicato a San Pio da Pietrelcina. Naturalmente l'invito è che tutti possano venire, debbono accorrere veramente numerosi. Speriamo, sì, noi invitiamo tutti, non solo del comune, dei comuni limitrofi e da tutte le parti anche della provincia a partecipare.